Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa del mattino. Oggi iniziamo un nuovo mese e noi vi auguriamo che sia un mese pieno di gioia e pieno di soddisfazioni. Noi cominciamo la rassegna stampa questa mattina come sempre con il santo del giorno e lo vediamo subito. Oggi il beato Andrea Carlo Ferrari è stato arcivescovo di Milano dal 1894 sino alla morte che è avvenuta nel 1921. Il sole è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 17.19. Per quanto riguarda il tempo oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nell'entroterra, avremo anche precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio oggi e non si escludono deboli ed isolati fenomeni dalla serata nel settore centro-settentrionale della regione. Le temperature sono in aumento. Per domani, venerdì, il tempo peggiora ancora perché dalla tarda mattinata di domani avremo fenomeni diffusi prevalentemente di debole intensità ma più abbondanti nel settore centro-settentrionale della regione avremo anche la neve che si attesterà intorno e scenderà attorno ai 1500 metri ma poi in graduale calo soprattutto nei monti della provincia pesarese intorno verso i 1100 metri dalla serata. Le temperature sono in lieve diminuzione. Peggiora ancora nella giornata di sabato 3 febbraio perché come potete vedere dalla grafica della protezione civile arriva anche la neve che si attesterà intorno ai 5-600 metri quindi grazie anche alle temperature in diminuzione. Avremo nella giornata di sabato questa precipitazione, questa neve soprattutto al mattino, poi il pomeriggio invece il tempo migliorerà. Sarà stabile invece per la giornata di domenica e poi tornerà un peggioramento previsto nella giornata di lunedì. Allora siamo in tante anche questa mattina su Facebook in diretta e allora vado subito ad augurare una buona giornata a Daniele Livio, poi Paola Mennuni, Giorgio Falcioni, Giacomo Toccaceli, Paola Luisa, Elio Lucarelli, Roberto Storoni, Andrea Sebastianelli, Anna Pascucci, siamo in tanti auguri e buongiorno anche a Rosi, Sabrina e quant'altro. Insomma siamo tanti e allora cominciamo a vedere subito i giornali. Partiamo dal Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico di questa mattina che in prima pagina purtroppo, ma lo fanno tutti i giornali questa mattina, aprono con la notizia, la tragedia, l'orrore di questa ragazza di 18 anni, appena 18 anni che è stata fatta a pezzi e le membra messe in due valigie, in due trolley che sono stati poi abbandonati lungo la strada. In casa del nigeriano che è stato, di un nigeriano che è stato fermato dai carabinieri, sono stati trovati i vestiti di questa ragazzina di 18 anni. Era nelle Marche, lei è di Roma, ma si trovava nelle Marche perché era in una comunità di recupero portossicodipendenti. Era andata via volontariamente nella giornata di sabato, forse ha incontrato questo uomo che poi, appunto, secondo quelle che sono le indagini, le prime informazioni, l'avrebbe uccisa. Atrocemente, il ministro, e siamo sulla pagina di Pesero, il ministro promette più forze dell'ordine, parliamo di Marco Minniti che ieri ha aperto la campagna elettorale, poco dopo invece è stato rapinato a Pesero, in Piazza Redi, lo vedremo tra poco, all'ufficio postale. I turisti del Carnevale ci sono, siamo sulla pagina di Fano, però non pernottano in città. Il titolare di Tukitur accusa che i prezzi degli alberghi sono troppo alti. L'agenzia ha organizzato pacchetti per 400 persone, 400 visitatori, abbinando anche le bellezze del territorio, non solo, dunque, il Carnevale. Oggi, intanto, c'è un vertice in Prefettura. Le bancarelle verranno, alcune bancarelle verranno spostate in via Garibaldi, quelle del food, quelle che cucinano, quelle che propongono cibo, proposta della Carnevalesca per aumentare gli spettatori, disagi però simili sono stati un po' in tutta Italia. Intanto, l'opposizione politica Fano chiede l'UMI al sindaco Seri, Udc e Progetto Fano in particolare, che sui problemi della gestione della sicurezza di questa edizione del 2018, che ha provocato appunto disagi al pubblico domenica scorsa, con 2.000 persone bloccate agli ingressi per 20 minuti e altri gravi fatti, eccetera, eccetera, ha chiesto e comunque ha presentato una interrogazione in consiglio. E poi, l'altra pagina di Fano del Corriere si occupa invece dei maestri carristi, due gruppi di carristi al lavoro in questa edizione del Carnevale. In 50 per i giganti di cartapesta, arte, tecniche e passione nell'opera dei maestri carristi del Carnevale. Gli allestimenti più belli si possono votare con il tagliando pubblicato nella pagina regionale del Corriere Adriatico. Avanza l'interramento al porto di Fano, a Fiore il Fondale, i ritardi dell'autorità dorica causano danni alla marineria. Guardate la fotografia e vi rendete conto da soli, insomma, di com'è la situazione al porto di Fano, il fondale che è affiorato anche grazie certamente alla bassa marea, però insomma, questo vi fa capire come davvero ci sia pochissima acqua, anche quando l'acqua è normale, insomma, quando c'è l'alta marea. Sulla fusione di Megasnet, Valefoglia non ha dubbi, approvata la delibera, il sindaco dice basta con le aziende doppione. E poi da Urbino, Minniti, sarà al bicentenario Laniero, insorge l'opposizione, però non è vero, scelta inopportuna, si viola la par condicio, il sindaco chiude il dibattito e dice il ministro non ci sarà. Dalla Valle del Cesano il funerale del giovane 19enne morto per un mix fatale, la commozione soffoca le voci, Davide aiutaci ad amare la vita. Accorata omelia di Don Mirco, ragazzi custodite l'esistenza, dice come un vaso di creta. La Chiesa dello Spirito Santo non ha contenuto le centinaia di giovani a corse per l'eseguio e siamo a terre roveresche dove appunto ieri, come vedete dalla foto, c'è stato il funerale di Davide Cardinali. Andiamo adesso sull'altra pagina del Corriere da Senigallia, prende di mira il sindaco su Facebook, lo studente ammette sì o esagerato, il post contro Mangialardi diventa virale, sono contro la sua politica ambientale. Il primo cittadino non ha ritenuto opportuno comunque sporgere denuncia contro di lui. Apriamo adesso invece il resto del Carlino, questa è la prima pagina, la fotonotizia si occupa della rapina fai da te che come dicevamo c'è stata ieri proprio a poche ore di distanza dalla visita del Ministro dell'Interno in Piazza Redi, prelievo armato all'ufficio postale di via Comandino, pistola e cappellino arraffa quello che può. E di fianco il Ministro dell'Interno a Pesaro Miniti con i sindaci PD fa le prime promesse, arriveranno più agenti. E poi i profughi che verranno, bando della Prefettura per 1450 persone, previsti 230 posti in più, le cooperative alla ricerca di altre strutture abitative. La moglie difende il professore pesarese che è stato arrestato con l'accusa di aver fatto sesso con una 15enne e la moglie dice non ha toccato la sua allieva solo un messaggio audio, solo messaggi audio, mi ha giurato di averla supplicata di lasciarlo stare, invece si è insinuata nella famiglia frequentando anche nostro figlio. L'altra pagina, eccola qua, quella del resto del Carlino dove appunto la moglie sul messaggio audio un po' hard dice è solo fantasia ad alta voce. La 15enne ha detto ai poliziotti di Rimini che aveva fatto sesso consenzientemente ma ora sui social nega tutte le circostanze. Uno dei legali dice difende una persona incensurata che dice di essere estraneo all'accusa e di aver fatto sesso con una 15enne. E poi l'altra pagina del resto del Carlino appunto sulla rapina che c'è stata in Piazza Redi fa ridere perché se davvero si sono svolti così sembra una scena di un film alla Fantozzi. È una rapina e la dipendente delle poste dica prenda il biglietto per la fila, malvivente con una pistola in tasca e rompa le poste dei Piazza Redi ma non trova ascolto. Insomma ha dovuto insistere un po' per dire guardate che questa è una rapina, datevi da fare. Allora la polizia stradale invece rassicura gli etilometri basteranno, la questura risponde all'allarme lanciato dal sindacato dei polizia, gli 11 ora sotto revisione rientreranno comunque presto. In caso di emergenza useremo quelli in dotazione al compartimento Marche. Vogliamo risposte sull'ospedale invece siamo a Fossombrone dove c'è stata la protesta di alcuni sindaci di Bonci, Marottesi, Tomasetti e Taddei. Ieri pomeriggio ancora una manifestazione per ribadire richieste già più volte indirizzate ai vertici regionali della sanità. Oggi invece ci saranno i funerali della neonata morta ad Apecchio alle 15 nel santuario di Apecchio, i funerali della piccola Larissa, la bambina di sei mesi trovata morta dai genitori nella sua culla. Una morte naturale causata da un probabile ricurgito. Ciao Davide, che sorridevi con gli occhi le parole di Don Ambrosini mostrando la foto del 19enne morto domenica scorsa. Una folla oceanica con palloncini bianchi lanciati nel cielo per l'ultimo saluto al 19enne di San Giorgio di Pesaro tragicamente deceduto a causa di un malore domenica scorsa. In tantissime hanno gremito la chiesa di Santo Spirito. Poi la curiosità pubblicata dal quotidiano Il resto del Carlino, sorpresa, il figlio di Aguzzi fa propaganda per il Movimento 5 Stelle, Filippo dice e sostiene serve un cambiamento. E a proposito qui c'è il papà invece che ieri ha fatto una conferenza stampa, il papà appunto del sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi che dice che ha presentato il bilancio, più soldi al sociale, zero aumenti e investimenti per 3,6 milioni di euro. Poi parla anche della nuova palestra di Villanova, della rotatoria che dovrebbe essere costruita a Calcinelli e degli interventi sui vari cimiteri del Comune. Con la nomenclatura del PD ecco la fotografia della ministro Minniti che ieri ha appunto presenziato per la sua candidatura, il ministro candidato Minniti ai sindacati o meglio in vista del centocinquantesimo Rossignano dice rafforzeremo l'apparato di polizia. Ancora dal resto del carino, questa volta pian del bruscolo, sui vaccini è scontro a Vallefoglia, grillini bocciati, famiglie deluse, il sindaco Ucchielli dice assurdo chiedere di non rispettare la legge, le richieste del Movimento 5 Stelle, i bambini non in regola con i vaccini accolti alla scuola dell'infanzia. Da Urbino la residenza protetta ristrutturata accoglie i primi dieci anziani, l'assessore Maffei nuove richieste per accedere alla struttura. La pagina di Fano invece, eccola qua, sul carnevale, il waltzer delle bancarelle. Waltzer perché in effetti prima sì, poi no, poi alla fine questa è la soluzione per recuperare spazi in via Gramsci e ottenere circa 5.000 ingressi in più. Oggi si proporrà dunque al prefetto di spostare gli ambulanti in via Garibaldi. L'idea è di creare una street food, una via del cibo, non fattibile invece l'ipotesi di allungare il percorso oppure aumentare i varchi. E Pesaro sale invece sul treno a vapore. Ci sarà una carrozza destinata alla delegazione rossignana. L'altra pagina di Fano del resto del Carlino, torneremo ad allenarci al centro Don Gentili. Posata la prima pietra di un progetto da mezzo milione di euro, si tratta di una nuova struttura polifunzionale che verrà realizzata entro l'anno. E poi la polemica del gruppo La Pandolfaccia che sulle iniziative organizzate a Fano dedicate ai malatesta si lamentano perché sono stati snobbati. Insorge La Pandolfaccia, da domani intanto al 25 febbraio ci saranno conferenze, mostre e visite sulla signoria di Fano. Chiudiamo con una notizia curiosa, la notizia che abbiamo trovato è sul Carlino, donne motori addio, la Formula 1 cambia. Come cambia? Via le ombrelline alla partenza dei Gran Premi e quindi i tempi cambiano e si sono accorti nel 2018 che le ombrelline, le ragazze che tengono l'ombrellino e i piloti che sono fermi in macchina pronti per la gara non servono, meglio tardi che mai. Salutiamo ancora tutti quelli che ci seguono su Facebook, io vi saluto, grazie per averci seguito, noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.